Musica Fare coach vuol dire sedersi di fianco a te e aiutarti a ottenere risultati. Un coach è una persona esperta o nel settore immobiliare o negli investimenti in borsa o nella pianificazione finanziaria. Quindi si siederà di fianco a te e concretamente lavorerà per un unico obiettivo. Farti ottenere risultati subito. Come potete utilizzare il vostro coach? È semplicissimo, potete usare il vostro coach via telefono, quindi potete chiamarlo soprattutto nei momenti in cui ne avrete più bisogno. Magari mentre state facendo la prima operazione immobiliare oppure magari avete un problema con un notaio, con un geometra. Altra cosa che potete fare è condividere il vostro desktop, quindi via internet in modo semplicissimo potete farvi assistere dal vostro coach nell'individuare le operazioni di borsa, nel sceglierle, nel valutare i vostri errori e vedere dove potete migliorare. Oppure potete venire qua presso i nostri uffici alla Alfio Bardolla Training Company dove potete incontrarvi con il vostro coach, sedervi e fianco a fianco incominciare a pianificare il vostro futuro finanziario. Grazie a tutti.